Il pullman della missione umanitaria Favara Forre Ucraina è arrivato a Lublino, dove nel parcheggio di un centro commerciale era atteso da donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Alcuni bambini, infrendoliti e spaventati, sono scoppiati a piangere, così come le loro mamme. Florinda Saieva, la mamma della sedicenne Carla Bartoli, che ha fatto la raccolta fondi per soccorrere i profughi ucraini, ha identificato e registrato le persone che sono salite sul bus per venire in Sicilia. 50 persone che arriveranno nell'isola per essere ospitate, alcune a Favara, ma c'è anche un gruppo della provincia di Caltanissette, più precisamente di Riesi, che si ricongiungerà con i propri familiari. A controllare le operazioni, anche la polizia della traduzione, si è occupata invece l'ex ciclista professionista Sergi, che è stato il punto di contatto fra la famiglia Bartoli e quanti sono in fuga dalla guerra. Dicevamo 50 ucraini, donne e bambini e un unico uomo che sono saliti sul bus per venire in Sicilia grazie a questa missione umanitaria. Fra coloro che sono saliti sul pullman, lasciando l'ubbino, vi è chi stringeva in mano il passaporto e il titolo di studio. Sul bus della missione umanitaria anche tre cagnolini con i loro padroni. All'interno del palasport, davanti il quale i profughi attendevano l'arrivo del bus, è stato creato un punto di raccolta di mamme e bambini che hanno atteso altri mezzi per andare via. All'interno vi sono oltre 100 persone, ma è un continuo antirivieni. Ormai il numero è destinato ad aumentare. Chi trova come spostarsi lascia la struttura e raggiunge altri paesi.